Sono Claudio Cardelli, Presidente dell'Associazione Italia Tibet, siamo qua davanti all'ambasciata cinese in via Bruxelles a ricordare il 1959 10 marzo insurrezione di Lhasa. Sono passati 62 anni da quell'evento e la situazione del Tibet è assolutamente andata peggiorando, dopo il periodo assolutamente allucinato della rivoluzione culturale in cui il Tibet è stato messo a ferro e fuoco, sono stati distrutti la quasi totalità dei monasteri, sono stati uccisi un milione di tibetani e dopo le caute aperture degli anni 80 adesso il Tibet sta conoscendo un periodo assolutamente tragico in cui tutta la repressione della Repubblica Polare Cinese è scatenata nella maniera più sofisticata possibile. Noi siamo qua a ricordare questa causa, una causa universale che non riguarda solo il popolo tibetano ma riguarda tutta l'umanità perché è la causa della verità contro la forza e la brutalità. Noi pensiamo che il Tibet abbia tutte le ragioni di questo mondo di essere qui davanti a protestare legittimamente un paese invaso e occupato, un paese che era indipendente e quindi noi reclamiamo con forza i diritti dei tibetani all'autodeterminazione e vogliamo che la Repubblica Polare Cinese esca da questo arroccamento assurdo di anni e riconosca che il Tibet è un problema che va risolto. Tibet libero!